Ha chiesto di intervenire il deputato Nuti, prego, ne ha facoltà. Interviene contro, chiaramente. Grazie Presidente, grazie a tutti i colleghi che vorranno porre un minimo di attenzione al contenuto delle motivazioni per il quale non è necessario rinviare questa votazione. Una votazione decisa in capigruppo, questa sì che viene chiesta in maniera anomala, cioè ne viene chiesto il rinvio in maniera anomala. Perché? Perché la maggioranza ha difficoltà a votare il suo stesso candidato, qualcosa di incredibile. Ci ritroviamo in un momento in cui il Paese muore, in cui ci sono tante difficoltà a discutere, sant'anche sì, sant'anche no. Allora, signori, noi non possiamo continuare in questo Parlamento e in quest'Aula ad occuparci di questo tipo di problemi. Non sono questi i problemi del Paese. Se la maggioranza vuole, visto che ha i numeri, elegge il terzo vicepresidente della maggioranza e risolviamo in pochissimo tempo questo aspetto, questo problema. Noi non possiamo rinviare per risolvere i problemi interni del PD o i problemi di immagine di chi non ha il coraggio di votare un candidato di un altro partito della maggioranza. Maggioranza significa stare insieme e accettare chi sono i candidati dei vari partiti. Non si può dire no, allora non votiamo e vogliamo il rinvio. Cosa dobbiamo rinviare ancora? Non è che il deputato candidato, in questo caso dal PDL, non era presente, non era nelle fila del PDL. Lo è sempre stato, non è una novità, non è cambiato niente. Lo sapevate già quando avete fatto la maggioranza. Quindi dovete semplicemente essere coerenti con quello che avete fatto. Il problema è che la coerenza purtroppo non appartiene soprattutto a questa maggioranza. E' l'ultimo concetto che vorrei esprimere, Presidente, a tutti i colleghi, che in quest'Aula non si può continuare a rinviare. Noi siamo pagati per lavorare, non per rinviare. Signori, è allucinante che noi dobbiamo costantemente rinviare. Io mi appello ai colleghi di scelta civica, ai colleghi del PD, di SEL, di Fratelli d'Italia, della Lega, del PDL. Ma come si fa a continuare costantemente a rinviare? Non si affronta un problema. Noi siamo gli irresponsabili. Ma è incredibile che veniamo definiti irresponsabili quando gli irresponsabili sono coloro che cercano sempre di rinviare e di non prendersi una responsabilità. Una. Siamo arrivati, questa maggioranza è arrivata incredibilmente a fondare un nuovo tipo di Repubblica, la Repubblica del rinvio. E noi non ci stiamo. Votiamo e andiamo avanti per affrontare i problemi dei cittadini. La ringrazio. Ora chiesto di intervenire.